Ciao a tutti e bentornati su Infermieri Online. Io mi chiamo Paolo e sono un infermiere e questo è un canale YouTube interamente dedicato al mondo dell'infermieristica. Nel video di oggi vedremo la procedura del cateterismo vescicale nell'uomo. Soltanto la procedura. Se siete interessati a qualche informazione in più sull'argomento, vi invitiamo a guardare il video introduttivo della serie sul cateterismo vescicale che abbiamo pubblicato settimana scorsa. Ma ora, come sempre, prima di cominciare, vediamoci la sigla. Come al solito vi ricordo, se non lo foste già, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica quando usciranno i nostri prossimi video. Il cateterismo vescicale è una procedura delicata e potenzialmente rischiosa, che deve essere eseguita da personale esperto e adeguatamente formato. Veniamo subito al dunque e vediamo il materiale di cui abbiamo bisogno per svolgere questa procedura. Avremo bisogno di disinfettante per le mani, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, un set per il cateterismo vescicale, costituito da 1 o 2 paia di guanti sterili, telo sterile forato, una siringa da 10 ml contenente acqua sterile, una siringa da 10 ml contenente lubrificante, garze sterili, soluzione antisettica e battuffoli di garza o garze già imbevute. I set possono variare leggermente nel contenuto. Quello che useremo noi contiene per esempio la sacca per la raccolta urine e il sacchetto per i rifiuti, ma non la siringa vuota per l'eventuale scuffiaggio di un catetere già in sede. Scriveteci qui sotto nei commenti che cosa contengono i set che utilizzate voi nella pratica di tutti i giorni. Avremo bisogno ancora di un cateter vescicale adeguato al paziente e alla sua problematica e dei guanti monouso. Ora che abbiamo visto il materiale di cui abbiamo bisogno vediamo la procedura per il cateterismo maschile a due operatori. Controlliamo l'identità del paziente, lo scopo e la tipologia del cateterismo prescritto dal medico. Il paziente deve avere precedentemente eseguito l'igiene intima. Trattandosi di una procedura sterile dobbiamo essere sicuri che le superfici su cui operiamo siano state adeguatamente sanificate e a questo punto informiamo il paziente sulla manovra che andremo ad eseguire. Posizioniamo il paziente supino garantendogli la privacy. Ricordiamoci per esempio di chiudere la porta della stanza. Laviamo e disinfettiamo le mani. Ora il primo operatore indossa i guanti monouso, abbassa il prepuzio e disinfetta sia il meato che il glande. Il secondo operatore indossa i guanti sterili e posiziona il telino. Il primo operatore ora può cambiarsi i guanti e disinfettarsi nuovamente le mani e porgere poi il cateter in maniera sterile al secondo operatore. Il secondo operatore testa ora l'integrità della cuffia e raccorda il catetere alla sacca di raccolta. Lubrifica la punta del catetere vesicale con circa metà della soluzione a disposizione. e somministra l'altra metà direttamente all'interno del meato, mantenendo la sterilità della mano dominante. Avvisiamo il paziente dell'imminente procedura. Tenendo il pene sollevato verso l'alto, inseriamo il catetere perpendicolarmente fino ad incontrare una lieve resistenza a livello della prostata. A questo punto abbassiamo il pene orizzontalmente e procediamo delicatamente fino a quando non notiamo reflusso di urina all'interno del sistema. Avanziamo di qualche centimetro per permettere al primo operatore di cuffiare il catetere in vescica. Durante la procedura chiediamo dei feedback al paziente e osserviamo il suo linguaggio non verbale e la mimica facciale. Ora retraiamo delicatamente il catetere per permettere alla cuffia di adagiarsi sulla parete vesicale. Il primo operatore che indossa i guanti monouso esegue ora una seconda igiene intima o sostiene il paziente nel farlo. Posizioniamo il sacchetto di raccolta urine al di sotto della vescica. A questo punto non ci resta che smaltire i rifiuti, lavare e disinfettare le mani e documentare la procedura. È possibile ma non preferibile eseguire questa procedura anche da soli. In tal caso sarà lo stesso infermiere ad eseguire tutti i passaggi appena visti e dovrà depositare tutto il materiale necessario in maniera sterile sul campo. Dopo aver eseguito la disinfezione del meato e dopo aver disinfettato nuovamente le mani, indosserà i guanti sterili per effettuare la procedura. Ringraziamo il nostro partner Sofrapa per averci fornito questo fantastico trainer senza il quale sicuramente non saremo mai riusciti a mostrarvi questo contenuto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se così fosse non dimenticatevi di lasciare un like o di condividerlo. Noi ci vediamo molto presto con il video sulla procedura femminile sempre qui su Infermieri Online. Ciao!